Ciao a tutti ragazzi per il ritrodo di questo nuovissimo video oggi siamo qui con Bambam perfetto oh c'è chi Bambam c'è chi, aspetta ok, seguimi seguimi, sono là allora, nello scorso episodio abbiamo trovato Surtro Surtro, che è? Surtro 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 è sordro è sordo è sardo non è sardo, è sordo è sordo è sordo Surtro e facci una parola di cos'è sordo non è sardo, è sordro Comunque ragazzi iscrivetevi al canale Ah, questo non è la pari ragazzi? Un assegno in bianco Adesso dobbiamo formare una lega Anti-segno in bianco Il popolo si ribella Agli assegni in bianco di Pampano 75 Vero? Mi dovete iscrivere al canale Lasciate la cattiva della campanellina Vero? No, il popolo si ribella E cosa devi fare a ciuccio? È sordo È sorto È sorto, ho detto Surtur, surtur No, no Surtur È sortur Capito? Non hai capito È sortur No, è sortur Vabbè Allora Abbiamo recuperato le lame di bananita Lo devi... Ma che mi dice sposta? Le devi fuocare Va bene? Mmh Fagli le toccare Fagli le toccare Fagli le toccare Fagli le toccare Ce la fai? Mmh È un po' di gelo Perché l'altra volta Vedi che fa la nebbia Una cosa di gelo Perché congerò Esatto Sei pronto? Fai R2 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 Di lunedì? Sessi Di piacccheck Pappa Lai di dismini Nasda Così Così attiverai Pappa Così attiverai 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 attiverei? no dell'aerosol sì quello è morto quello è morto è morto l'aerosol beh attraverete papà papà forse avevi ragione c'è l'aerosol lasciamo in pianto basta papà 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 come hai fatto? papà 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 stai morendo papà sei morendo no papà 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 papà